Il numero zero Emanuele Pallauro Ola, io mi chiamo Leonardo Rossi, il mio numero è uno Con il numero tre, Tommaso Frati Io mi chiamo Mattia Rubegni, numero quattro Sono Andrea Ferinti e sono il numero cinque Niccolò Pasquini, numero sei Sette, Giulio Corzini Con il numero nove, Gioele Grandi Francesco Bagnolesi, numero di maglia 10 Ola, io sono Alejandro Abbate, il mio numero di maglia è il 11 Numero quattordici, Pietro Cabassi Sedici, Duce Stefanelli No, io sono Tommaso Per il secondo anno alla menzana Con il numero 19, Iago Caselli E con il numero 22, Andrea Pisani E lui è un 23, Tommaso Ele, Labardi Ciao, sono Mattia Guerrini, ho la maglia numero 24 E con i miei canestri posso confermare o ribaltare il punto di gioco avviso Tommaso Binella 30 Cari, il numero 38, Filippo, Gio, Raggi 39, Valentino Giantini No, non no, non le mi chайтесь Ma è tutto Ma è il primo Quattro Quattro Che Quattro Che Che Quattro Che 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti